Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing, sono Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e ideatore di A51 Benessere Shop. Ho il piacere di presentarvi il nostro nuovo panisesto di Area 51 TV, panisesto che nasce anche con l'occasione dell'apertura proprio del nostro nuovo shop di benessere A51 Benessere Shop, appunto, che vi propone sempre nuovi prodotti per il vostro benessere integrato di corpo, mente e anima. E per quanto mi riguarda, vivo questo nuovo panisesto come il mantenimento di una promessa, una promessa che ho fatto innanzitutto a me stesso, ma che ho fatto anche a voi, attraverso diversi video, diversi incontri che proponiamo quotidianamente da un po' di tempo. La promessa che nel momento in cui fossimo cresciuti, avessimo ampliato la nostra proposta sul mercato, la nostra presenza sul mercato, fossimo cresciuti anche economicamente, avrei restituito questa crescita, questo avanzamento, anche alle persone che non hanno ancora potuto, per diverse ragioni, accedere a questo nostro mondo. Infatti, quello che avviene è esattamente questo, quello che avevamo promesso e che ci eravamo impegnati a mantenere come promessa. Il fatto che grazie a voi cresciamo, grazie al fatto che ci conoscete, che acquistate i nostri contenuti e prodotti, cresciamo. Crescendo abbiamo la possibilità di offrirvi nuovi contenuti gratuiti, di crescita personale e spirituale, di benessere integrato, perché ogni giorno ci accorgiamo sempre di più, abbiamo bisogno di connetterci a quest'altra energia, di entrare in questo altro nostro mondo che, per come la vedo io, costituisce il prossimo mondo. E c'è un punto in più, molto importante, secondo me, che insieme, noi e voi, possiamo aiutare anche gli altri, le altre persone che ancora non ci conoscono, che non conoscono gli strumenti di crescita personale, che non conoscono i nostri argomenti, i nostri strumenti, i nostri principi, soprattutto i nostri valori, la nostra ricerca quotidiana, il nostro stesso impegno. Ecco, grazie a questa nuova proposta, che arriva per merito vostro, per il fatto che ci avete permesso di crescere, possiamo non soltanto noi e voi, ma anche gli altri, far crescere il nostro paradigma, espandere, espandere i principi e i valori che costituiscono la nostra ricerca. Questo mondo, che è il prossimo mondo, è anche l'obiettivo, la visione della mia impresa. Cambiare il mondo. Ma, e lo sapete bene, cambiare il mondo è possibile soltanto se si cambia se stessi. Soltanto se si rinnova se stessi, si può rinnovare il mondo. Soltanto se si trasforma se stessi, si può trasformare il mondo. Lo sapete, da dentro a fuori. Da fuori a dentro, rinnovandosi continualmente, trasmutando alchemicamente, attraverso la conoscenza di sé che apre le porte dall'interiorità alla dimensione superiore. Da fuori a dentro, da dentro a fuori. Da fuori a dentro, da dentro a sopra, da sopra a fuori, rinnovando il mondo. Questo resta il principio assolutamente incontrovertibile. La roccia, per usare una metafora biblica, in cui costituiamo il nostro edificio, su cui ergiamo il nostro edificio e la nostra ricerca. E questo resta intatto anche nel nostro nuovo progetto, A51 Benessere Shop, che non a caso ha come suo claim, come suo slogan, preferisco slogan, ecco claim è un termine così un po' contemporaneo. Io sono un po' inattuale, un po' vintage, quindi mi piace il termine, lo slogan, come avrebbero detto gli anni 50. Benessere di corpo, mente e anima. Resta lo stesso principio, che si articola, si irrade i nuovi prodotti. Quando parliamo di benessere, di crescita spirituale, di crescita personale, parliamo allora di una stessa cosa. Sempre di più ci rendiamo conto di parlare di una stessa identica cosa, di un concetto integrato. Questa integrazione, questa unione tra tutti i livelli che costituiscono il nostro essere qui e ora, animano anche il nuovo palinsesto di A51 TV. che abbiamo pensato di organizzare in questo modo. Manteniamo inalterati tutti i giorni gli incontri di motivazione quotidiana alle 8 e 30, quindi inauguriamo la giornata con una sana dose di motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna e poi ogni giorno, tutti i giorni della settimana, un altro video. Il lunedì, il mercoledì, e il venerdì, tre video live di incontri con me, il lunedì, un video incontro centrato sulla crescita personale, il mercoledì, un video incontro che si occupa di serie più strutturate, più monografiche, in sostanza sono dei veri e propri mini corsi, e il venerdì, un video, invece, incontro live di crescita spirituale. benessere integrato, crescita personale, crescita spirituale, diventeranno sempre di più intrecciati. E sempre di più avremo insieme il coraggio, il coraggio, sì, di esplorare senza timore la dimensione spirituale. su questo verterà soprattutto l'incontro del venerdì, perché sono certo che la parola, anche la parola biblica, abbia tanto da dirci, senza dogmi, senza preconcetti, abbia tanto da dirci al nostro orecchio per la nostra vita pratica, quotidiana. Il giovedì, poi, lo dedicheremo alle interviste di crescita personale, incontri con differenti persone, non soltanto professionisti nella crescita personale, ma anche personaggi, protagonisti o professionisti di altri ambiti. Ma, naturalmente, la nostra prospettiva sarà centrata sulla crescita personale, su come hanno sviluppato la loro idea, su come hanno realizzato i loro progetti, su come hanno gestito le difficoltà, su come hanno superato i fallimenti, eccetera. Saranno incontri live che vorremmo fare, anzi, che sicuramente faremo in streaming, come si dice, cioè in tempo reale, e perciò siamo ancora un po' indietro, ci stiamo lavorando anche perché bisogna cambiare un po' di cose, aggiungere, aggiustare, ci stiamo lavorando e quindi abbiate pazienza, questo è l'obiettivo, progressivamente ci arriveremo, non subito, ma mi auguro nei prossimi due mesi al massimo. martedì e sabato avremo invece due video dedicati agli ascolti di crescita personale, i grandi classici del nuovo pensiero, i grandi classici della legge d'attrazione e tutti gli altri argomenti che sono cari ad Area 51 Publishing, dalla PNL, al Transurfing, al Metodo Silva, alla Psicocibernetica, a Oponopono, Huna, eccetera, 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 sempre nell'ambito di integrazione tra crescita personale, crescita spirituale e benessere. Infine, la domenica, proprio dedicato, il giorno di riposo, dedicato al benessere, Healing Music Video, video con frequenze positive di benessere per staccare finalmente da tutto quello che è stato durante la settimana e che non ci ha dato soddisfazione e aprirci invece alla migliore soddisfazione, alla migliore frequenza, alla migliore risonanza con le migliori frequenze per inaugurare al meglio la nuova settimana. Questo è il nuovo paninsesto di Area 51 TV, questo è il nostro impegno quotidiano, il mio, impegno quotidiano personale con voi. Vi chiedo di aiutarci a mantenere vivo il canale e a proporvi sempre nuovi e migliori contenuti gratuiti per la vostra crescita personale e spirituale. In che modo? Beh, innanzitutto guardando i nostri video, poi commentandoli, poi condividendoli, condividendoli con le persone che soprattutto vorrei dire condividendoli con le persone che sentite che sono pronte, che sono in sintonia con i nostri principi e valori. Consigliando perciò Area 51 TV e Area 51 Publishing e A51 Benessere Shop le persone che sapete, ripeto, che sono sensibili in sintonia con la vostra ricerca, con il vostro desiderio di cambiamento, con il vostro desiderio di ingresso e di esplorazione di questo nuovo mondo, cioè del prossimo mondo. E lo dico in maniera precisa questo, condividete, consigliate solo con le persone che sapete essere simili a voi, in sintonia con voi, non per una forma di snobismo verso gli altri, ovviamente, ma perché, come sapete bene, questi contenuti, questi argomenti, questi discorsi, se non vogliono essere capiti, se non si è in sintonia, naturalmente, per tendenze che io definirei karmiche, placidamente le definirei karmiche, con questi argomenti, se non si è spontaneamente in sintonia, quindi spinti verso questa ricerca, è inutile, è inutile consigliare, suggerire, è non soltanto fonte di perdita di tempo, ma anche fonte, e penso, lo sappiate bene come me, di una certa frustrazione, perché non c'è niente di peggio nel voler aiutare le altre persone in modo non soltanto autentico, ma completamente disinteressato, e vedere che vengono rifiutate queste proposte, questi suggerimenti, questi consigli. Perciò, chi non è interessato, benissimo, non fate lo sforzo. Se finora avete pensato di fare lo sforzo per il loro bene, per esperienza vi posso dire che è inutile. Invece, le persone che sapete, sentite, sono predisposte e magari nei confronti delle quali fino ad adesso siete stati un po' reticenti, un po' timidi, un po' riservati, proprio perché, ripeto, questi argomenti non sono semplici e possono essere compresi solo se parliamo, come abbiamo più volte detto, uno stesso linguaggio all'interno del nostro paradigma, però se sentite che quelle persone possono essere veramente aiutate, possono ricevere veramente un beneficio autentico e disinteressato da voi, fatelo. E così continueremo insieme a alimentare reciprocamente questo circuito che mi pare di poter dire serenamente essere economia virtuosa, autenticamente virtuosa, non con le vane chiacchiere di certi salottieri, imprenditori che si riempiono la bocca di parole altissime come visione, missione, grande prospettiva, reciprocità, solidarietà, amore per la natura, amore per la terra che dà solo buoni frutti. Al di là delle parole questo modo di fare è il modo che piace a noi, un modo concreto fatto di impegno quotidiano insieme lì, insieme noi con voi, voi con noi, a fianco uno dell'altro, insieme nel cammino e non uno che sta su un piedistallo e l'altro che sta giù nella polvere, insieme nella polvere che è una polvere bellissima perché libera l'azzurro del cielo sopra di noi, insieme, concretamente, cambiare il mondo, giorno dopo giorno, l'impegno quotidiano, che è un impegno esaltante, a volte faticoso, a volte frustrante, ma ripeto, esaltante, perché quella energia che sentiamo che spinge alla nostra ricerca per la nostra migliore vita è quella stessa energia che si diffonde in tutte le altre anime, in tutte le altre persone che vivono su questa terra, è un idealismo senza alcun dubbio, ma è un idealismo che concretamente costruiamo con i fatti giorno per giorno, in silenzio, senza urlare, senza gridare, parlando tra di noi in maniera serena, ma giorno dopo giorno, senza cedere mai, senza mollare mai, per cambiare il mondo cambiando noi stessi. Grazie a tutti!